sognare si può buongiorno come va poesia merenda di nuovo qua è sabato e siamo con il nostro carmelo cossa con l'appuntamento con la poesia come è andata questa settimana bei numeri grazie sempre a tutti i nostri ascoltatori che sono davvero sempre molti moltissimi e ci danno tantissime soddisfazioni grazie grazie perché siete tanti siete belli e noi vi ringraziamo e ci piace anche questo fatto di poter condividere la poesia e scoprire che in realtà quel momento dedicato ai versi è molto apprezzato piace le persone ogni tanto è vero siamo stati piacevolmente smentiti è stata è stata esatto abbiamo avuto diciamo una grande bella sorpresa siamo stati felici di avere torto però vabbè abbiamo voluto provarci lo stesso perché a noi piaceva e abbiamo scoperto che non siamo gli unici perché fare più di mille visualizzazioni in una settimana non è non è cosa da poco soprattutto punto calcolando che parliamo di poesia e che è che tra l'altro le persone hanno piacere di essere coinvolte e questo è anche molto molto bello no io ringrazio tutte le persone che si ascolta ringrazio laura che ci fa le sorprese si è molto bello anche questo nuovo angolo questa nuova opportunità che abbiamo di ascoltare alcune poesie ormai possiamo dirvelo perché la sorpresa l'abbiamo fatta la settimana scorsa di ascoltare alcune poesie appunto di Carmelo Cossa declamate proprio da Laura e la cosa bella è che l'editrice quindi l'editore declama il proprio scrittore il proprio artista è anche una bella una bella combinazione sì 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 io trovo ciao lucia la nostra artista meravigliosa simonis che tra l'altro sta andando avanti come un treno ha sprombattuto con i suoi abiti di carta con gli spettacoli e con l'articolo cioè che il servizio che è stato fatto su Rai 3 sui suoi abiti esposti proprio a palazzo madame la seguo perché io resto incantato da quegli abiti quindi la seguo volentieri è veramente un sogno lei come dire da questo punto di vista è meravigliosa perché ha sempre prima di tutto il sorriso sempre comunque e poi ha questa creatività un po' come la tua che non si ferma mai la notte il giorno voi così trac scrivere scrivere è più facile fare gli abiti di carta ma sai probabilmente sono punti di vista no perché poi alla fine che dire per te è più facile scrivere perché quello è ciò che ti viene dal suo punto di vista è più facile fare gli abiti o le cose che lei crea un salutone proprio perché perché lei fa questo no questa è la sua arte quindi ognuno poi ha la sua di come dire di vena e magari quello che fanno gli altri gli sembra molto difficile in realtà non lo è ognuno ha una sua dota come si dice esatto senti un po prima di salutare tutti i nostri amici ascoltatori che ci seguono io direi che possiamo cominciare subito con una poesia di laura così ci scaldiamo subito con un tema che tra l'altro è comune a tanti non so quale e adesso se la spra è una sorpresa anche così poi la commentiamo a caldo eh va bene va bene solitudine ma no non sono solo siamo in due tu ed io anzi a pensarci bene siamo noi con il desiderio di parlarci di baciarci di sognarci coccolarci e poi volare c'è anche l'amore che sospira sogna e si nasconde all'ombra di noi due in cerca di un perché che non esiste ma questa luce che sprende che cos'è è l'incanto dei tuoi occhi in cui mi sciolgo è il desiderio di viverci che ci travolge ed io ti dico sono vicino il cuore tuo e tu da tanto tempo abiti nel mio mi sei entrata nel cuore all'improvviso e sentendo che batteva strano come il mio ho creduto di poterlo amare e ci ho provato ma devo aver fatto un gran casino ma non è colpa mia se sei nata bella se sei immensa e se hai paura come me e per paura di essere compresa fuggi dai non avere paura e non fuggire lo so che finché non capita non puoi capire come ci si sente ma se ti fermi ad ascoltare ti abbraccio ti bacio e facciamo l'amore e ti prometto che se tu dovessi aver paura prendo fiato e tenendoti abbracciata ti sorrido ti carezzo e ti racconto un sogno e allora dicevo che è un argomento a parte che la poesia è bellissima sentiva declamato in questo modo è emozionante vero è sempre bello potersi dedicare all'ascolto sono sono modi diversi di emozionarsi ascoltare o declamare o leggere emoziona sempre ma in modo diverso è completamente diverso quindi laura grazie bravissimo non salutone un abbraccio e grazie per questo regalo che non è stato l'unico l'unico ve lo dico questo tema la solitudine è un tema molto sentito in generale ma soprattutto forse in questi ultimi anni no sì io credo che in questi ultimi anni a parte la pandemia tutto quello che sta ancora succedendo ma credo che la solitudine sia sia diventata infettiva passami il termine ebbene sì perché non lo so io dovunque vado vedo vedo persone sole esatto la mattina sono rimasto scioccato attraversando la strada per andare a comprare il giornale c'era la fermata del pullman sì io non ho fatto in tempo a contare quante persone c'erano ma erano tante nessuno parlava con un altro tutte inchiodati sul loro cellulare che forse al momento è l'unica cosa con cui riescono a confrontarsi le persone non ho detto ma il cellulare una cosa inanimata non è la stessa cosa no no infatti questo per questo dico che c'è tanta solitudine perché se noi cerchiamo compagnia solo ed esclusivamente in un mezzo tecnologico evidentemente abbiamo un problema no che è quello della mancanza di comunicazione di dialogo con le persone ci manca un contatto umano e lo sostituiamo con questo con questo mezzo tecnologico che per certi versi è molto per carità utile io non ce l'ho con la tecnologia in generale però certamente non può sostituire un rapporto umano ma impropria perché non non ha calore non ha sapore non sa di nulla esatto quindi questo è molto importante sarebbe importante ritrovare il calore del rapporto con le persone che poi non è che debba essere tanto nel senso non è poi tanto la quantità del tempo che noi condividiamo con le altre persone per quanto chiaramente un bel pomeriggio una bella domenica una bella serata in amicizia è bellissimo però anche sapersi gustare la mezz'ora il quarto d'ora incontri una persona che magari non vedi da tanto tempo e poter scambiare due parole un sorriso cioè di cuore però non 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 quei rapporti formali insomma no no scusate ciao ragazzi buon pomeriggio indovina chi è raffaele raffaele ciao raffaele la pausini 30 anni fa aveva capito tutto già allora pensa te così ci dice la solitudine è vero è vero è verissimo è verissimo abbiamo veramente bisogno di poi questa settimana ho avuto la conferma perché una persona mi ha chiesto di leggere una poesia le ho promesso ma non l'ho trovata la prossima volta la porterò e detto comunque è postata se la cerchi su facebook c'è e mi ha risposto sì ma sentirla declamata è un'altra cosa ma è questo è vero è bello no sentirsi cioè vedersi che la gente scrive che sentirla declamata un'altra cosa ma sì perché c'è quel rapporto comunque tra la voce di chi declama è comunque un rapporto più umano che non leggersela per carità è sempre emozionante ma per i fatti propri che va bene ogni tanto è carino però come dicevamo prima ci sono vari livelli livelli di emozioni sono diverse a seconda di quello che noi facciamo no se leggiamo se invece la sentiamo è diverso anche perché abbiamo magari leggendola quindi ascoltandola lasciandosi andare abbiamo il tempo anche proprio di lasciarci cullare trasportare magari nei nostri ricordi nelle nostre così emozioni proprio nel vero senso della della parola perché ci sono emozioni che sono lì dentro di noi che stanno lì riposano sotto qualcosa di che non si può spiegare e poi a un certo punto basta una parola basta un verso e subito vengono fuori esplodono ne parlavamo parlavamo con stefania con la dottoressa stefania rubatti proprio l'altro mercoledì della musica musica e psiche no in generale era rivolto alla musica ma a tutti quei ricordi che scaturiscono e vengono messi in moto da vibrazioni emozionali no come i profumi come le parole come la musica appunto che ci permettono di riaccendere quelle situazioni come dire che sembrano spente no basta un attimo e noi siamo esatto immediatamente trasportati come posso dire in un altro in un'altra dimensione si 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 eccola qua la nostra maria emilia ciao ragazzi io ascolto sempre però come la leggete voi due sono ancora più emozionanti ma che bello grazie 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 di cuore che facciamo ne leggiamo un'altra leggiamo un'altra va bene allora leggiamo questa dovrebbe essere fresca 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 calda calda non lo so ti aspetterò questo è il titolo di questa poesia già il titolo è questo è questa e lei regalami un attimo del tuo amore solo un altro per sentirmi vivo e poi potrò morire ti aspetterò in quel luogo diventato il delirio di un sogno d'amore un amore navigato nelle tempeste di quel mare che ci portava al fondo per poi lasciarci liberi di emergere amarci viverci e volare ancora ti aspetto lì un pomeriggio d'estate in cui sarai ancora tempesta del cuore ma io non sono più chi con te sono stato e mai sarò chi credevi che io fossi ma se un giorno ci trovassimo abbracciati ricorderesti com'è l'amore che ti avvolge e ti scrive sul cuore con una carezza l'hai avuto e amato quell'amore e senza saperlo l'hai navigato nei sentieri l'hai scalato fra le cime dei monti ma ora tu donna profonda e misteriosa ti sei persa seguendo ancora chimere e non capisci che la vita è adesso è adesso e non ritorna a dirti dai sogna ancora regalami un giorno e sogniamo oggi se vuoi e se credi perché un attimo un attimo d'amore vissuto non sarà mai sprecato ma sarà sempre dolce amato e ricordato wow ci fai venire i brividi che ci posso fare perché comunque vengono così tocchi sempre delle sfere emotive molto profonde perché anche se vogliamo magari nasconderlo ognuno di noi ha trascorso dei momenti legati a un amore magari travagliato che magari non è stato vissuto perché magari non era il momento giusto a volte le persone si amano e si incontrano in un momento che non è quello giusto per entrambi va a sapere le alchimie del destino no però ti muovono delle emozioni profondissime lo stavamo dicendo prima con la solitudine non parla di solitudine ma chi vuole capire capisce ma infatti è questo il punto no le emozioni poi sono la secondo me l'essenza dell'anima la cosa per cui vale la pena vivere l'abbiamo detto tante volte no che se noi togliamo quelli non si vive scusami mi sono distratta un attimo maria emilia dice intendo le due ragazze non tu caro cugino mi fa sempre sorridere maria emilia meravigliosa e sdrammatizza sempre un po grazie 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 ma è vero ciao gabrie la nostra gabriella roti roti o mi sono interrotta non abbiamo salutato volevo salutare come sempre facciamo tutti gli ascoltatori di sognare si può tutti gli ascoltatori dell'angolo del confronto del nostro gruppo di amici artisti a 360 gradi e quindi la nostra gabriella roti roti che eccola qua che ci augura buon pomeriggio e naturalmente tutte le altre persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno perché come sapete questo episodio si può riascoltare e naturalmente a tutti i nostri amici di Radio Moncalieri che ringraziamo sempre di cuore e allo stesso modo ringraziamo anche il nostro Gianni Ricci e tutto lo staff www.radiomoncalieri.net per chi vuole andare ad ascoltare a curiosare ciò che accade o chi ci vuole riascoltare proprio lì eccolo qua so di qualcuno che ieri sera disperata non c'era poesia merenda chi? chi? noi ci siamo ma chi l'ha detto? forse Raffaele Cossa ci dice questo so di qualcuno che si disperava ieri sera perché pensava non ci fosse poesia merenda e invece c'era e non lo so ecco è rimasta lo dicevamo proprio stamattina con il nostro Carmelo è rimasta solo sul sognare si può e in tutti gli altri luoghi non si è vista mannaggia e vabbè invece ci siamo ci siamo e come a condividere i nostri bei pensieri i nostri bei versi io direi che a questo punto se sei d'accordo potremmo leggere l'altra poesia che ci ha regalato la nostra Laura possiamo ascoltare non leggere sì hai ragione perdonami straparlo ebbene sì adesso la leggiamo e ancora l'ascoltiamo se potessi starti accanto non saremo mai più silenzio ma sogni d'amore da vivere fra il cuore l'anima e la pelle che urlano ti voglio qui e ora gridano regalami un attimo d'amore e poi sussurrano parole che in me non si potranno mai spiegare vorrei sedermi accanto a te che guardi il sole ma ho paura del silenzio che non sento delle parole che non canto dei tuoi occhi che non guardo e del tuo abbraccio in cui potrai morire perché nell'immensità fra il nulla e me c'è ancora tempo da riempire e scrivo scrivo fiumi di parole per dimenticare e poi nelle mie notti insonne le rideggo per ricordare chi ha barattato l'amore chi ha tradito il lavoro e chi storpiando e barattando l'arte ha provato a uccidere il mio scrivere ma io scrivo ancora per sentirmi vivo e lo farò per te finché son vivo vita mia vita mia e sì dobbiamo continuare a vivere a emozionarci finché siamo ancora vivi ed è più volte tu ci porti questo concetto no voglio vivere finché son vivo dobbiamo vivere finché ci è concesso perché effettivamente noi diamo tante volte per scontato il tempo e anche la vita in realtà non è così non è così quindi effettivamente è molto molto importante potersi godere realmente i momenti i momenti con tutte nessuno nega che ci siano delle grandissime difficoltà talvolta è cioè ognuno di noi voglio dire ne ha il suo bel bagaglio nessuno ne è privo però è anche veramente molto bello poter apprezzare quei momenti fermarsi un attimo godersi dei momenti belli e poi affrontare le difficoltà che dobbiamo fare fanno parte della vita purtroppo sì però come tu più volte ci hai anche detto se noi non fossimo alle volte presi dal dolore non potremmo sapere quanto è meravigliosa la gioia e la felicità è su questo se qualcuno mi avesse detto sei mesi fa che io avrei fatto fatica a leggere non ci avresti creduto no? cambio gli occhiali ci vedo sì è certo non è così e invece vedi che a volte ci si trova a fare i conti con delle difficoltà che uno non aveva messo assolutamente in previsione però hai trovato la maniera per non fermarti no? i tuoi super monitor giganti chiaramente è una difficoltà molto grande perché uno dice vabbè e adesso come devo fare? non posso leggere quando voglio dove voglio non posso scrivere non posso neanche guardare un messaggio quando sono in macchina ma poi arrivo in ufficio, arrivo a casa, mi fermo e lo leggo con la lenta e quindi vedi che le soluzioni le trovi chiaramente non è facile è certo no 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 assolutamente sì adesso ti faccio fare un sorriso perché abbiamo scoperto qual è la diatriba Maria Emilia allora Raffaele dice so di qualcuno che aveva sbagliato giorno e Maria Emilia mi dice sì sì ero io che ieri avevo sbagliato giorno quindi non era una gente che pensava che fosse sabato ah boh boh invece comunque siamo oggi è vero che con questa giornata di festa insomma la ricorrenza per la festa della Repubblica il 2 giugno ogni tanto quando c'è qualche giorno di festa perdiamo un po' il senso della settimana è vero è vero grande Carmelo Cossa così ci dice la nostra Gabriella Roti Roti e Giuseppe Parisi ti dice ciao Carmelo da Parisi sei un grande e allora vedi che le persone sono meravigliose sono veramente splendide siete tanti e veramente con un cuore grosso così ci fate anche un po' sorridere no ogni tanto con qualche battuta come dicevamo prima tra alti e bassi perché questa è la vita e meno male che c'è è vero sì 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 allora cosa facciamo adesso leggiamo ancora una poesia anche perché io non te lo vorrei dire ma sto tempo vola leggiamo ancora questa assolutamente sì e adesso vediamo non so che cosa vediamo anche che cosa quanto tempo poi ci rimane ma vedi che quando stiamo bene il tempo vola 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 un attimo rubato eh casca speriamo che non mi beccano casca fagiolo questo titolo adesso entriamo nel merito però porto addosso la malinconia di un ricordo come fosse un profumo sulle mie labbra c'è il sapore di un bacio come fosse miele apro gli occhi e vedo i tuoi che brillano come fossi accanto a me sento nel cuore la nostalgia che urla come fosse amore e da oggi la malinconia di un ricordo il sapore di un bacio ai tuoi occhi che brillano li conservo nel cuore con la nostalgia di un tempo e vincendo distanza e paura rubo un attimo per sentirmi vivo provo a cogliere il fiore senza chiedere se sto vivendo o sognando che l'attimo rubato duri tutta la vita bellissima questa è veramente potente e questa è la poesia che mi avevano chiesto che non l'ho trovata ma in realtà l'avevi trovata era già qui era già qui e hanno capisco perché te l'hanno chiesta perché è veramente meravigliosa veramente molto 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 bella senti un po io ruberei ancora un attimo e ne leggerei ancora una prima di salutarci perché ecco qua eccola qua la nostra laura che ci manda il suo ciao ciao allora ti sei emozionata noi ci siamo emozionati a sentire le tue le poesie di carmelo declamate da te grazie 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 la nostra grazie dice wow perché questa poesia veramente meravigliosa io ti ringraziamo tanto 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 e quindi prima di salutarci eccola qua tanto tanto dice laura che si è emozionata e anche noi grazie per aver condiviso con noi questi momenti aspettiamo altre poesie perché ci stiamo prendendo gusto e non solo noi e non soltanto noi è vero verissimo allora prima di salutarci leggiamo concediamocene ancora una ma è leggere questa lunga ma sì assolutamente sì è una poesia questa presto diventerà per la mamma una video poesia e ecco quindi abbiamo una news sappiatelo e noi adesso ve la leggiamo in attesa della video poesia che fra poco condivideremo quando sarà pronta lo faremo senz'altro a te mamma il giorno che il tuo cuore disse basta ed esalassi l'ultimo respiro ero lontano mamma ero a sfidare il destino per vincerlo e vivere la vita che tu il tuo amore mi avete regalato io non l'ho mai vissuto quell'amore che ti accinge che ti accendeva gli occhi e arrossivi ogni volta che ti chiedevo quando avrei incontrato l'amore che avrebbe acceso anche gli occhi miei ricordo giorni sere e notti intere trascorse a chiederti che cosa fosse la magia che vivevi e mi guardavi e poi ridevi ridevi con me mi abbracciavi e mi spiegavi che l'amore quello vero non si incontra ma io non capivo l'amore ti cerca mi dicevi e quando accade devi viverlo senza domande e senza perché perché l'amore è vita e senza amore non si vive ma oggi madre mia dopo anni tormentati non ho domande e non cerco più risposte sono vivo e ti prometto che lascio la paura abbatto il muro che oscura la mia vita e quando sentirò che il cuore batte strano capirò che l'amore mi ha trovato e devo viverlo lo vivrò con gli occhi accesi il cuore a mille le braccia aperte e l'anima felice farò felice con lei che capirà l'amore vero lei forse non lo sa ma è già felice quanto me ora riposa madre mia e la tua festa non posso regalarti i fiori né stringerti le mani ti abbraccerò col cuore e ascoltando la tua voce come quando cantavi la fanciulla in fiore vivrò il desiderio dell'amore che m'ha trovato e lo sognerò vivendolo ogni istante senza aver paura come hai sempre fatto tu e allora Carmelo che scherzi mi fai faccio fatica a finire di leggere determinate poesie perché comunque toccano emozioni molto profonde no tanto parliamo di una mamma poi parliamo dell'amore è un mix molto molto potente ora capisco perché sui social Rodolfo Lettore l'ha vista l'ha declamata abbiamo mandato il vocale che io lo ringrazio veramente col cuore e che diventerà presto una videopoesia che farà che farà il giro del mondo spero che avrà successo spero che spero che piacerà sì piacerà sicuramente perché dal mio punto di vista quando ripeto parliamo dell'affetto di una mamma e comunque dell'amore è un mix potente molto molto potente che tocca proprio le nostre corde più profonde e quindi grazie e siamo in attesa di questa videopoesia non vediamo l'ora che possa essere pronta per poterla condividere insieme con te e ascoltarla e guardarla perché la videopoesia si può anche guardare mentre si ascolta e abbiamo proprio tutti i supporti emotivi possibili e allora noi siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora come sempre il tempo è volato e vi diamo appuntamento a sabato prossimo vi abbracciamo forte forte con tanto amore e tanta poesia grazie al nostro Carmelo Cossa con Poesia Merenda complimenti Carmelo ti dice Laura grazie Laura grazie a tutte le persone che ci ascolta che ci ascolteranno grazie assolutamente sì e ricordate che segnare si può e non è peccato alla prossima ciao